Fratelli e sorelle bianconeri salve a tutti la classifica è deficitaria ragazzi l'abbiamo detto ieri più che deficitaria è drammatica e io mi sono ripromesso ho ripromesso a me stesso di non guardare la classifica almeno fino a gennaio ragazzi bisogna solo lavorare in anellare dei risultati che non potranno essere mai quelli del 2015-2016 la famosa stagione partita con un punto in tre partite c'erano squadre non attrezzate come quelle di quest'anno c'era un Napoli e c'era un Inter che non erano sicuramente ai livelli delle 4-5 squadre che ci sono davanti oggi delle big perché davanti a noi ce ne sono tante ce ne sono 17-18 in questo momento però delle big diciamo che le 5 big di quest'anno mi sembrano molto più attrezzate rispetto a quel Napoli e a quella Inter dunque non credo proprio che la Juventus farà 25 vittorie su 26 come fece quell'anno realisticamente parlando nel giro d'andata quante ne possiamo vincere su 16 rimanenti quante ne possiamo vincere? 10? 11? sarà difficilissimo ma dobbiamo provarci limare qualche punticino e sperare ma guardando la classifica tra un mese e due mesi ci facciamo solo del male perché non sarà mai possibile essere neanche sesti neanche settimi saremo sempre decimi, undicesimi, dodicesimi a meno che facciamo 10-12 vittorie di fila così cosa che non penso sia fattibile non abbiamo semplicemente i mezzi per farlo dunque io consiglio a tutti voi di non guardare la classifica per 3-4 mesi e poi cominciare a vedere un po' com'è la situazione perché ci facciamo male veramente alle budella ci facciamo del male al fegato, al nostro fegato, alla nostra psiche la situazione ragazzi è molto 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 difficile ho detto drammatica usando un aggettivo insomma forse non è il caso di coniarlo per il calcio sono ben altre le situazioni drammatiche della vita però ripeto, calcisticamente parlando è una classifica drammatica drammatica non me la sento neanche di dare tutte le colpe ad Allegri Allegri ha le sue colpe, ce le ha avute la seconda giornata con quella scelta scritta di formazione attenzione, quella squadra veniva da due giorni di cataclisma di un terremoto di mercato, di scommussolamenti, di partenze è successo di tutte, la squadra era palesemente scossa Allegri ci ha messo del suo con le sue scelte su questo non ci piove ma per ciò che riguarda l'Udinese e il Napoli non posso dire niente neanche ad Allegri ragazzi avrei fatto anch'io la stessa sostituzione se Pellegrini non è in grado di giocare più di 50 minuti senza farsi venire i crampi abbiamo finito i terzini perché gli altri tre terzini sono sudamericani non ci sono se abbiamo solo De Sciglio e Pellegrini si fa male deve entrare De Ligt che è un centrale non abbiamo altri terzini in rosa e ovviamente si deve giocare a tre perciò non posso contestare neanche questo e l'avrei fatto anch'io non è questione, è semplicemente questione di cappellate di minchiate per usare un sinonimo a me caro minchiate fatte da Scesni con l'Udinese due e da Scesni e Kinn con il Napoli una partita che il Napoli si è giocato bene il secondo tempo soprattutto ma era comunque molto fumo ragazzi tanto possesso e poco poco arrosto molto fumo non ci avrebbero mai fatto collo ragazzi ha riaperto tutto quella baccata di quel minchionazzo di quel portiere che io sì da un lato capisco che Allegri non lo voglia affossare voglia cercare di recuperarlo anche psicologicamente ma così Allegri ci fa del male facendolo giocare ancora io capisco la sua intenzione di recuperarlo perché se lo metti subito in panchina lo ammazzi ma a un certo punto ragazzi morso tua vita mea non possiamo per recuperare Scesni continuare a buttare punti nel cesso e fai giocare Perin e buonanotte ragazzi che non sarà sicuramente Levi Ashin Perin però in questo momento non può giocare Scesni non è tranquillo palesa delle carenze tecniche oltre che atletiche tecniche nel bloccare la palla ragazzi non se ne può più e ripeto delle vaccate ci hanno fatto arrivare a questa classifica deficitare perché la Juve non vale il punto in classifica che ha parliamoci caro la seconda gara l'ha toppata di brutto abbiamo fatto vomitare vabbè ma dovevamo avere sei punti ragazzi tra Udinese e Napoli le vaccate di quei due ci hanno letteralmente bruciato questi sei punti perché li avremmo avuti tranquillamente per l'Empoli dò la colpa allegri i giocatori hanno combinato di tutto e di più e lì non ci piove però dovevamo avere sei punti ragazzi ora giustamente la classifica piange con conseguenti risvolti psicologici per la squadra che se la classifica non migliorerà nelle prossime giornate ovviamente la squadra trascinerà conseguenze psicologiche capaci di affosseremo ancora di più c'è solo da buttarsi nella gara di Champions e e poi e poi pensare e poi pensare al Milan in una gara che può veramente o rilanciarci o affossarci definitivamente nelle retrovie della classifica sperando di recuperare qualche pezzo io non so che dirvi ragazzi non so che dirvi quei pochi giocatori buoni che abbiamo in Rosa mancavano addirittura col Napoli quadrato chiesa non so che dirvi la situazione è tremenda e piove sul bagnato piove sul bagnato ripeto non so se allegri sia l'uomo giusto per tentare questa rimonta folle ma in questo momento dobbiamo cercare di essere compatti di unirci tutti di restare uniti e ribadisco per quanti problemi abbiamo in Rosa a centrocampo soprattutto sulle fasce tutto quello che volete ma potevamo benissimo avere sei punti se non era per quel cazzo le discesi e poi Kinn ha completato la frittata ragazzi detto questo le colpe principali sono sempre sue di Agnelli di quel maledetto monociglio come lo chiama il mio amico David monociglio sì è lui che ha combinato tutto tutto questa squadra è arrivata a questo punto di non ritorno per colpa di Agnelli ragazzi avete sentito le dichiarazioni di Cherubini l'altro giorno che ha confermato quello che ho sempre detto io ma finalmente Chiellini è venuto allo scoperto scusate Cherubini Cherubini è venuto allo scoperto ha confessato quello che sapevo che sapevamo un po' tutti ha detto lui ragazzi che Holland era praticamente della Juve ma poi non il giocatore non ha voluto in quel momento c'era un progetto di farlo giocare nell'Under 23 il giocatore non ha voluto ci siamo consultati con il nostro mister abbiamo concordato di farlo giocare nell'Under 23 ma lui non ha voluto cioè un giocatore che aveva fatto caterve e caterve di gol nel girone di Champions League e continuò a farle mesi dopo col Borussia Dortmund cambiando casacca quel giocatore avrebbe dovuto andare in Serie C a giocare in Serie C perché il nostro allenatore e i nostri dirigenti vedevano Higuain come titolare inamovibile il rudere di Higuain abbiamo perso Holland per questo ragazzi ringraziamo una dirigenza di merda e l'allenatore che ha secondato questa scelta il benzinaio scaccolatore non ve l'ho dimenticato ragazzi io lo sapevo ve l'ho sempre detto l'ha confermato Cherubini questa è stata una delle tante minchiate fatte da questa dirigenza però per farvi capire che siamo a questo punto non per Allegri non per non per altro ragazzi siamo a questo punto per una dirigenza di merda di incompetenti scelti da quel maledetto monociglio da quel maledetto figlio di papà di Andrea Agnelli che vuole solo il male di questa squadra fino alla fine grazie a tutti grazie a tutti